Proponiamo per il terzo anno di fila i mercoledì di via Passeri che è una sorta di associazione comunque delle attività che ci sono in questa via e per il terzo anno stiamo proponendo delle cose nuove, una è il primo concerto che abbiamo fatto questa sera che è il Love Seek Duo un gruppo importante ma il prossimo mercoledì avremo la collaborazione con l'Accademia Rossini che ci proporrà degli eventi serali in tre punti della via e in tre situazioni dove proporranno delle ragazze che faranno della musica dal vivo classica e jazz dell'Accademia Rossini quindi questo è il terzo anno in cui facciamo una situazione del genere, funziona, l'associazione è diventata una cosa importante che abbiamo adesso appena presentato in comune, abbiamo il nostro brand, il nostro sito e pensiamo che funzioni a Pesaro è una nuova formula di attività in una bella via molto lunga, importante del centro storico Questa sera abbiamo avuto una grande partecipazione, un grande riscontro in tutto il lavoro che abbiamo fatto a priori di fare il brand, di fare il nostro logo, il sito, i social e quindi sponsorizzate e questa sera abbiamo avuto un bel riscontro la via è piena, venendo dal Cali City di sabato comunque abbiamo cavalcato un'onda che ci ha aiutato molto